Vai vai vai! Aspetta ragazzi! Eh, oddio! Tutto ok, non ti rubare! Va beh! Perché no? È il cinturone! Sì! Taglielo! Sì, te lo metti tu! Stiamo in video! Non lo voglio, non lo voglio! Il tappo, almeno il tappo o il bananino! Portagli il bananino, Filippo! Portagli il bananino, per favore! Si, si può portare! No, glielo poggi sulla murata e se lo mette da solo! Allora, Andrea, glielo poggi là, per favore! Cazzo, mi stai a sentire, Andrea? Forza! È più vicino! No! Non ti preoccupare! Oh, cazzo! Me la prendo io la responsabilità! No! Ma non andate in tilt su queste stronzate! Cazzo! 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 no 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 adios grazie a tutti vabbia vabbè 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 è proprio inutile rafforzarlo perché non puoi fare niente ma è un terminale che non è neanche un gran che grande vabbè 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 E diamogli due telefonini, pure a loro, scusate. Non si può adesso. vai Arlin salta recupera, non pompare, recupera tanto è lento, stringiti quella stella di lato dagli una strettina se puoi, appena puoi ok, al massimo, sempre al massimo, ricordati meno la canna per favore, più il mulinello vai, tanto non sta attesa quindi significa che non stai pompando a ragion veduta bravo, un sorriso aria di casa vai, vai, si sta alzando falla andare, fregate mamma che partenza che ha fatto ragazzi vai, vai vai ragazzi, sul pesce ragazzi sul pesce, sul pesce vale, vai di mulinello solo mulinello vai, tira, 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 no, 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 piano, piano, piano mi tengo spera, 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 spera no, 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 piano vai oh, oh, oh è Marlin eh Marlin, release sì, però però vale com'è il cazzo bravo 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 bravi ragazzi, e vai bravo capitano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti